5 Rimedi naturali per chiudere i pori dilatati I pori dilatati spesso accumulano sporcizia e possono causare imperfezioni cutanee come l'acne o i punti neri, pertanto è fondamentale mantenerli puliti. I pori sono piccoli orifizi dell'epidermide che svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione della temperatura corporea, perché facilitano il processo di traspirazione. Ogni persona ne ha circa 2 milioni distribuiti su tutto il corpo e, anche se spesso ne ignoriamo la funzione, sono importantissimi per proteggere la pelle da molti agenti esterni. La loro dimensione può variare a seconda di diversi fattori genetici. Molto spesso, però, tendono a dilatarsi per colpa dell'eccessiva secrezione delle ghiandole sebacee e della perdita di elasticità dovuta all'invecchiamento precoce. Il problema è che, in questo modo, possono ostruirsi per colpa dell'accumulo di cellule morte e impurità. Così, a poco a poco, si possono manifestare in estetismi quali punti neri e acne. Per questo motivo, molte persone cercano trattamenti per chiuderli, in modo da pulire le secrezioni che si accumulano al loro interno e ottenere un viso dall'aspetto più sano. La bella notizia è che ci sono molte soluzioni naturali che, applicate esternamente, riducono le dimensioni dei pori e correggono le imperfezioni. A seguire vi proponiamo i nostri 5 migliori rimedi naturali, che potrete provare a casa. 1. Succo di pomodoro Il succo naturale di pomodoro contiene composti acidi che contribuiscono a regolare il pH della pelle e a ridurre le dimensioni dei pori dilatati e ostruiti. Applicarlo direttamente sulla pelle aiuta a tenere sotto controllo l'acne cronica e a regolare la produzione di sebo, ottenendo un viso più pulito e morbido. Ingredienti 1. Pomodoro maturo 1-4 tazza di acqua 62 ml Preparazione Mettete il pomodoro maturo nel frullatore insieme all'acqua e lavorateli fino ad ottenere un succo naturale. Immergete un pennello o un batuffolo di cotone nel liquido e distribuitelo su tutto il viso. Lasciate assorbire per 10 minuti e sciacquate con acqua fredda. Applicate questo rimedio almeno 3 volte alla settimana. 2. Esfoliante di avena e miele Una crema esfoliante preparata con farina di avena e miele che vi aiuterà a rimuovere le impurità dei pori dilatati, rendendo la pelle del viso più pulita e luminosa. Ingredienti 2 cucchiai di farina di avena 20 g 2 cucchiai di miele 50 g Preparazione Mischiate il miele con la farina di avena, fino ad ottenere un impasto cremoso. Applicate la maschera su tutto il viso, soprattutto nelle aree in cui notate pori dilatati. Lasciate riposare per 30 minuti e sciacquate. Applicatela due o tre volte alla settimana. 3. Maschera di cetriolo e latte L'effetto astringente del cetriolo combinato con l'acido lattico del latte rende questo rimedio naturale uno dei migliori alleati per ridurre le dimensioni dei pori. Questa maschera blocca la dilatazione e diminuisce la quantità di cellule morte e le impurità. Ingredienti 1 barra 2 cetriolo 1 barra 4 tazza di latte 62 ml Preparazione Mettete i due ingredienti nel frullatore e frullate fino ad ottenere un composto omogeneo. Stendete la maschera su tutta la pelle e lasciatela agire da 20 a 30 minuti. Sciacquate con acqua fredda e ripetete ogni sera. 4. Trattamento all'albume d'uovo L'applicazione dell'albume d'uovo sul viso aiuta a rimuovere i punti neri, di solito causati dalla dilatazione dei pori. I composti dell'albume regolano il pH cutaneo e riequilibrano l'attività delle ghiandole che producono grassi. Ingredienti 1 albume d'uovo 1 cucchiaino di succo di limone 5 ml Preparazione Ne sbattete l'albume d'uovo e meschiatelo con un cucchiaino di succo di limone. La sera, dopo esservi struccate, stendete questa maschera fino a coprire tutto il viso. Lasciatela asciugare e tenetela 30 minuti, poi sciacquate. Applicatela tre volte alla settimana. 5. Maschera Lo yogurt naturale L'acido lattico contenuto nello yogurt naturale è uno dei migliori alleati per pulire i pori ed eliminare le cellule morte. Crea una barriera protettrice contro i batteri e, allo stesso tempo, schiarisce le macchie della pelle. Ingredienti 3 cucchiaiate di yogurt naturale, 36 g, 1 cucchiaio di zucchero, 10 g. Preparazione Mischiate lo zucchero con lo yogurt naturale e applicate questa crema esfoliante tramite delicati movimenti circolari sul viso. Lasciate riposare per 15 o 20 minuti e sciacquate. Ripetete il trattamento fino a tre volte alla settimana. Ripetete il trattamento fino a tre volte alla settimana.